Carissimi amici e amiche, bentornati, nuova puntata del Catechismo di San Pio X, come tante volte ho confessato, una delle mie catechesi preferite perché non nascondo la mia profonda ammirazione per questo Catechismo in particolare, sia per il modo con cui ha formulato, sia per quello stile che per la verità, a essere sinceri, Papa Benedetto XVI ha cercato di riprendere quando ha pubblicato il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, in parte, e questo è certamente una cosa buona, il compendio è uno strumento ottimo a mio avviso per chi, come dire, preferisce sintonizzarsi sulle frequenze molto più ampie del nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica, per carità evidentemente belle e perfettamente condivisibili perché nel Catechismo della Chiesa Cattolica c'è tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, però le doti a mio avviso del Catechismo di San Pio X che sono al momento insuperate, sicuramente superabili perché tutto in questo mondo è perfettibile, sono quelle della sinteticità estrema unita ad una chiarezza estrema. E faccio questo piccolo preambolo, tanto perché siamo questa puntata è un po' di ripresa dopo la pausa estiva, per chi evidentemente segue sia le dirette che regolarmente questo ciclo. Più tempo passa più apprezzo questa cosa perché crescendo, perché il tempo scorre anche per me, crescendo sia in età biografiche, quindi biologica, che anche in età ministeriale, ci si accorge, grazie a Dio, che pur vivendo nell'amicizia con il Signore ogni giorno, speriamo, conoscendolo un po' di più, un po' meglio, speriamo, però con Dio capita questa cosa, perché Dio ha fatto così, meno male che capita questa cosa, che tu dici, più lo conosci, allora lo conosco un po' meglio, ma mano in mano che lo conosci di più, ti accorgi che sì, conosci qualcosa di più, ma lo conosci di più e al tempo stesso lo conosci di meno, cioè capisci che sono molte di più le cose che non si conoscono, di quelle che si conoscono e che quindi ci si tuffa in un mare interminabile e che anche ci sono delle cose, tante cose, io intanto lo dico a fedeli, ad amici che o mi contattano o mi scrivono o intervengono anche in diretta, ci sono tante cose che non si possono sapere, in questo mondo non c'è dato l'accesso e Dio stesso non vuole che vi indaghiamo in questo mondo, vuole che stiamo a quello che lui ci apre gradualmente e che chiaramente nella sua quintessenza è sintetizzato nel catechismo, ecco perché la Chiesa ha sempre insegnato che per andare in paradiso bisogna professare la fede cattolica, frequentare i sacramenti e osservare i comandamenti, questo basta e avanza, evidentemente poi, evidentemente nel frequentare i sacramenti c'è anche inclusa l'ultima parte di tutti i grandi catechismi che è un minimo di vita di preghiera, no? Perché queste sono le cose essenziali, ecco, e su queste cose essenziali noi dobbiamo avere le idee chiare e distinte, non possiamo stare dentro concetti sfumati, fumosi, eterei, ambigui, anche se le cose di fede ci hanno sempre uno scarto, nel senso che anche se noi ne possiamo e noi dobbiamo avere una conoscenza vera e certa, non è mai una conoscenza perfetta, come dice San Paolo, la nostra conoscenza qui è imperfetta, è imperfetta la nostra profezia, però è una conoscenza vera e puntuale, almeno per quanto è possibile saperlo. Cioè, per esempio, quando uno si legge al catechismo di San Pio X, l'ultima catechesica che è stata fatta, la differenza del peccato mortale e il peccato veniale, quando si perde la grazia e quando si riacquista, ma queste cose bisogna saperle e in maniera chiara, altrimenti si brancola e non è un problema teorico, dice ma queste sono cose dottrinali, sono cose nozionistiche, no, no, questi sono problemi molto molto pratici, perché io lo devo distinguere quando ho commesso un peccato grave, perché non mi posso per esempio andare a fare la comunione così se ho commesso un peccato grave. E queste non sono cose, sono dettagli, sono quisquiglie, perché la comunione fatta avendo un peccato grave sulla coscienza, anche se io non avessi la piena avvertenza di stare in peccato mortale, però quella comunione non fa quasi niente. Cioè, ammesso che non sia un sacrilegio, cerco di spiegarmi, no? La comunione è la sacrilegio quando una persona sa di stare in peccato grave e si accosta lo stesso alla santa comunione, ma se una persona a causa appunto dei suoi difetti di formazione e di conoscenza non sa distinguere, ha commesso un peccato grave e va a farsi la comunione, ma state tranquilli che certamente non fa un sacrilegio, ma quella comunione non gli fa nessun bene. Tanto per farmi capire, faccio un esempio frequente, quanta gente in occasione di funerali o di matrimoni chi ha passato a fare la comunione perché è morto mio padre, che faccia, non faccia la comunione. Si è sposato mio fratello, che faccia, non faccia la comunione. Tanto è vero che Benedetto XVI a suo tempo, quando era ancora Papa in carica, nella, mi pare che ne ne è in cifrica, l'Euscarita VI mi sembra che fosse, proprio ci fu un paragrafetto dove raccomandava a noi parroci, a noi preti, ai preti in cura d'anima, in occasioni di eseguo, di matrimoni, voglio vedere chi lo fa, di trovare un modo, io lo faccio, di dire in maniera certamente garbata, ma anche di dirlo che per accostarsi alla Santa Comunione bisogna essersi confessati. Non si può andare, uno si inventa qualcosa, io ci ho pensato, ho trovato un modo, spero, dignitoso per farlo, ma si deve fare questa cosa qui. È chiaro che se una persona sapesse bene, si ricordasse bene il catechismo, se non va mai ammessa la domenica, ma non gli passa neanche per l'anticamera del cervello, andasse a fare la comunione senza essersi confessato. Manco se è morto il padre, perché quella comunione, pure se è morto tuo padre, non fa nessun bene né a te né a tuo padre. Questo deve essere chiaro e questo dipende dal catechismo, dipende dalla formazione, dipende dalla conoscenza. Se uno comincia a dire, ma sì, forse, sì, però, sì, vediamo, chissà, forse, però, le circostanze, però, se non l'hai fatta apposta, cioè, è ovvio che, cioè, un conto sono i principi, questo lo dico sempre, un conto poi sono le circostanze concrete, la persona, è per questo che il Signore c'è detto di non giudicare mai le persone, che il giudice rispetta soltanto a Dio, però su alcune cose non bisogna essere chiare. sapere che ogni peccato che uno commette ha una sua retribuzione, tanto per dirne una, non è che tu dici, ho fatto perché, che mi importa, tanto poi mi confesso e uno si lava le mani, ma che ti lavi le mani? Mica finisce tutto lì, non finisce tutto lì. Quel peccato tu lo sconterai, in questo o nell'altra vita, a meno che non fai penitenza, e non le tre Ave Maria che molto spesso pure io le devo dare, perché che penitenze vai a dare oggi per come stanno la quasi totalità dei fedeli, a meno che non ti parte una persona che ti viene a fare la confessione generale, che magari sei anche partita da lontano, venendo proprio da te, proprio perché sa che tu sei tu e te la chiede, dammi una penitenza adeguata, oggi ti sta pure attento pure a questo, perché le persone potrebbero non capire, potrebbero prendere in odio la confessione, potrebbero andare a Dio a mezzo mondo, che ah il prete mi ha dato tre rosari per penitenza, chiamano il vescovo, chiamano il curia, succedono queste cose, la sicuro, capite? Però se anche un poro prete si trova costretto a darti tre Ave Maria, perché per non andare a fare danni peggiori di quello che una penitenza adeguata riparerebbe, tu devi sapere, quel peccato, quelle tre Ave Maria non lo riparano, quindi o te inventi qualcosa prima che mori, oppure te lo inventi dopo, cioè non è che te lo inventi, dopo questa cosa ti sarà fatta fare, volente o nolente, e non ce ne è per nessuno, non ci sono preferenze per nessuno, non è che ci stanno i figli dell'oca bianca, non ci sono figli dell'oca bianca davanti a Dio, siamo tutti uguali sotto questo punto di vista, non pensiamo che Dio faccia preferenze di persone in nessun caso e di nessun tipo, tutte queste cose da cosa dipendono? Dal catechismo, dalla conoscenza, allora se la conoscenza è chiara, uno sarà aiutato, se la conoscenza è sfumata, ambigua, eterea, fumosa, la famosa aria fritta, io ricordo, io ricordo, ricordo, il vescovo che mi ha ordinato sacerdote, lo dico tranquillamente, tanto ancora vivo e vegeto, quindi non ho nessuna paura, cioè quando, come la stragrande maggioranza dei vescovi, che stanno continuamente a fare piani pastorali, di forme delle catechesi, a destra e a sinistra, vedono che i ragazzini arrivano alla cresima quasi con lo zero assoluto. Io sentì anni fa una storia, è successa realmente, non la circostanzio, ma che è successo? Un vescovo va ad amministrare le cresime in una parrocchia X e gli viene la malaugurata idea, prima della celebrazione, stava in sacrestia con i candidati, di fare alcune domande di catechismo. Eh, se io non mi ricordo quando ha finito la storia, se il vescovo si è messo le mani nei capelli semplicemente, o se addirittura qualcuno ha detto, senti, tu la cresima oggi non la puoi fare, è successo fino in mondo. Ma perché non è che dice, sai, uno non sa rispondere alla domanda dove è presente l'umanità santissima di Gesù? Questa è una domanda insomma un po' impegnativa, perché uno che ti risponde è presente glorificata in cielo alla testa del Padre e poi è presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, dove c'è la presenza reale, insomma questa è una domanda, se uno ti risponde così, a lei. Ma se uno ti dice quel giorno che le persone della Santissima Trinità sono quattro, Padre, Figlio, Spirito e Santo, osservazione della croce con la sinistra come i satanisti al contrario, insomma uno si preoccupa un po'. Ma questa situazione oggi non è sporadica, eccezionale, è quasi universale. Tutti quanti i professoroni continuano a dire così, ah il catechismo a memoria non serve a niente, nozionismo. Sapete che San Pio X propose del catechismo in forma di vera scuola, come lo dicevo, a scuola, le cose le devi imparare. Ah orrore, stracciamosci le vesti, via stracciamenti di vesti. Il vescovo che mi ha ordinato, che non è certamente un tradizionalista, perché Monsignor Petrocchio, li voglio tanto bene, ma non è un tradizionalista, o quello che si chiama oggi con un certa area dispregiativa un conservatore. È un moderato, quindi è una persona abbastanza aperta, non è certamente annoverabile per quanto mi riguarda tra i modernisti, ma neanche tra i tradizionalisti assolutamente, ma è una persona intelligente. E lui esprime in forma dubitativa, abbiamo buttato alle ortiche tutto questo, che dici, ma il nozionismo non basta? E lui rispondeva, io sono il primo a essere d'accordo, il nozionismo non basta, ci vuole anche la vita. Ma di fronte che tu questi vanno a fare la crisi, ma almeno il catechismo lo sanno, poi bisogna vedere se lo vivono nella vita, e adesso c'è il nulla assoluto, va tutto bene? Non va tutto bene. Ecco, quindi, tutte quante queste frette di mandare nel dimenticatoio, in soffitta, questa è una malattia che continua a perdurare nella chiesa, sapeste quanta gente parla delle cose antiche, vecchiume, c'è il vecchiume, quindi è roba da cimeli, no? Come delle volte si vedono in giro dei musei diocesani o parrocchiali, dove sono dei bellissimi calici o bellissimi paramenti sacri che stanno dentro un museo. Qui si potrebbe utilizzare tranquillamente. Bellissime cose, che stanno a fare dentro un museo? Ma usale, anziché utilizzare i calici di coccio o di legno, che qualcuno li mette pure in giro in prima pagina su Twitter, a mostrargli che opere d'arte. Chi l'ha detto che una cosa che è vecchia è da buttare al secchio? Nella chiesa, poi. che si fonda sulla tradizione con la T maiuscola. Ma dove sta scritto questa cosa qui? Poi io ho sempre pensato, lo dico tranquillamente, ma lo direi anche in pubblico, lo dico in pubblico, perché non c'è niente di cui vergognarsi. Cioè, la cosa che a me non piace, che mi suscita, come dire, spirito critico, dice, vabbè, vogliamo fare un pochino di cose nuove e facciamole pure. Solo che dopo che le hai fatte, uno deve fare delle verifiche. Hanno funzionato queste cose nuove? Sì o no? Perché se tu c'è un problema, il problema deve essere risolto dalla nuova terapia. Se il problema non solo non è risolto ma è aggravato, la terapia non funziona. E la cosa che si vede invece da parte di coloro che hanno le vesti del medico è che i problemi c'erano. La terapia non solo che non ha funzionato, li ha peggiorati. E qual è la soluzione? Usiamola ancora di più! Perché si vede che i malati non si fanno curare. Ma la terapia sicuramente funziona. Io, sinceramente, dinanzi a queste cose, per quello che conto, insomma, come il due coppia briscola quando regna denari, però mi chiedo, dico, ma si può procedere in questo modo? Boh! Qual è il problema? Che uno dovrebbe dire, ma sono sbagliato. Forse tante cose che abbiamo troppo frettolosamente messo in soffitta o nel dimenticatoio, forse abbiamo fatto, era il caso di pensarci un po' meglio, no? Da tutto dipende, meno che da questo. Quello sicuramente va bene, quindi i problemi saranno altri. E quindi continuiamo a fare nuovi tentativi, nuovi progetti, nuove cose, eccetera, eccetera, che però si basano sui presupposti nuovi, che avrebbero dovuto risolvere alcuni problemi, quando invece i problemi, a quanto pare, li hanno aggravati. Quindi, vogliamo andare avanti così? Per me queste cose sono, come dire, sono scelte sbagliate e che vanno a fare danni, perché poi il problema, qui non si tratta di problemi, cioè, chi se ne importa? Cioè, amici miei, a me non mi importa niente, detto fra me e voi, a me non mi importa niente il Catechismo di San Pio X, capite il senso in cui lo dico, capito? Non mi interessa, cioè, non è che uno sta facendo delle battaglie ideologiche, uno deve fare, ah no, voglio fare forza questo, perché... Ma... Usa le cose che funzionano, calunque esse siano. A me questo sembra che funziona, cioè, io quando a suo tempo, Lessi, me lo so letto io per primo, tanti anni fa, il Catechismo, le dico, ma se mai esserlo detto queste cose che andavo a ragazzino, ma io non avrei campato come ho campato. Io l'ho pensato. Non è detto che tutti quanti la pensino come me, la devono pensare come me. Quindi, avendolo pensato, avendolo vissuto, lo propongo. Perché forse se qualcuno se lo sente, qualcuno lo condivide. Vabbè, comunque, ho fatto 18 minuti di introduzione. Passiamo all'ultimo articolo del credo, che credo nella risurrezione, nella carne e la vita eterna. Oh, bellissimo, no? Pensate che, sottotitolo, prima Timotio 4,25, queste cose medita, in queste sta fisso affinché sia manifesto a tutto il tuo avanzamento. Cioè, pensare alle cose ultime. Adesso qui facciamo subito consigli per gli acquisti, che ha appena iniziato anche qua, un altro ieri, un discorso, il circo di catechesi sui nuovissimi. La meditazione e la contemplazione dei nuovissimi è una cosa importantissima, basilare, fondamentale. Non possiamo non pensarci. Qui non si tratta di, cioè, ho detto l'altro ieri, dico, ma, come va? Tutti quanti sono preoccupati. Devo pagarmi i contributi, perché poi devo andare in pensione, e quando, e se poi mi ammalo, devo farmi l'assicurazione, devo far... per carità, occupazioni e preoccupazioni legittime. Perché? Se non c'è la pensione, quando sei vecchio, che te magni? Ma questo non è il problema principale. Perché tu ti dovrebbe... devi pensare a quello che succede dopo che sei morto. E ci devi pensare adesso, perché come se non paghi i contributi, la pensione non la pigli, così se non vivi in un certo modo, in paradiso non ci vai. Non ci vanno tutti. Col bonus. Via. Tutti quanti in paradiso. Questo non si è scritto da nessuna parte. La Bibbia non lo dice. Gesù non l'ha insegnato. La Chiesa non l'ha mai detto. E nessun santo si è in mezzo a darla di una cosa del genere. Mai. E quindi, chi dice in giro queste cose qui, si prende la responsabilità di andare contro. La Bibbia, Gesù Cristo, il Vangelo, il Magistero della Chiesa e i Santi. Vedi tu se vuoi dare retta a questo, oppure a sfilza di autorità con la maiuscola. Allora, detto questo, andiamo a leggere sto catechismo, se no tra poco è finita la puntata, ne abbiamo letto manco un numero. Allora, 156. Che cosa ci attende alla fine di questa vita? Sentite. Alla fine di questa vita ci attendono i dolori e lo sfacello della morte e il giudizio particolare. Pum! botto subito, subito, subito. Alla fine di questa vita, cioè, so dolori, so. So dolori! A Roma dicono, so dolori di panza. So dolori. Non soltanto i dolori connessi agli acciacchi, io già comincio, 50 anni, già mi sembro mezzo l'ottame, nel cuore mi sento un ragazzino, però purtroppo, come dire, l'asinello, così lo chiamava San Francesco, l'asinello non è consapevole che è andato un pochino avanti negli anni e quindi non si può comportare come un ragazzino e comincia a accusare qualche colpo ma non sono solo questi dolori. I dolori sono dolori, dolori. Lo sfacello della morte. Il tuo corpo diventa cibo per i vermi. Chiaro? E il giudizio particolare. Al termine della vita noi incontriamo il Signore come giudice. Giudice. Cioè, poi lo vedremo. E' novissimi che cos'è il giudizio particolare. Giudice. C'è un esame rigoroso di tutto quello che hai fatto nella tua esistenza, dall'uso della ragione fino alla morte. e il bene viene ricompensato e il male viene retribuito. Punto. Certo c'è il problema dei problemi. Il problema è paradiso, è salvezza o dannazione. Salvezza o dannazione per la salvezza ci vorrà almeno il pentimento dei peccati. Sincero. E l'avete invocato sinceramente. La misericordia del Signore. Ma attenzione è i peccati commessi non espiati. Si espiano tutti. 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 Secondo. Che cosa ci attende alla fine del mondo? Alla fine del mondo ci attende la risurrezione della carne e il giudizio universale. E attenzione. Che significa risurrezione della carne? Risurrezione della carne significa che il nostro corpo per virtù di Dio si ricomporrà e si riunirà all'anima. Facile facile no? Per partecipare nella vita eterna al premio o al castigo da essa meritato. La risurrezione è un dogma di fede. Noi passiamo attraverso la morte e qui rimando a un altro ciclo di catechesi appena cominciato che è il libro di Teneramata che spiega anche bene in che senso la nostra anima si separa dal corpo e come. perché questa è una cosa da ben comprendere perché la nostra corporeità è una dimensione fondamentale dell'essere umano. fondamentale. E come insegnavano sempre i santi tu più al tuo corpo lo hai fatto disordinatamente godere in questo mondo e più soffrirai. Chiaro? Più il tuo corpo l'hai mortificato in questo mondo con tutte quante le penitenze e mortificazioni non escluse le austerità dei santi. io vi do chiunque io l'ho fatta queste cose durante la mia vita io l'ho letta in sacco dei viti dei santi ma ne avete mai letta una? Avete mai visto quello che i santi facevano? Cose d'altri tempi. Ah, poi questi erano mezzi fissati c'era una visione negativa del corpo e quindi invece adesso noi dobbiamo ci abbiamo finalmente recuperato una visione positiva quindi il corpo dobbiamo trattarlo che ti metti a fare quelle cose? Ma che sei matto? Questo è quello che si pensa oggi. Solo che per me c'è sempre la grande domandina amici miei perché io voglio bene a tutti e voglio ascoltare tutti io cerco sempre di avere l'orecchio aperto anche nell'ascolto di chi la dovesse pensare diversamente da me per carità e l'orecchio aperto cioè nel senso che io sono aperto a quello che tu mi dici però mi devi convincere però ma non è che mi devi convincere perché se la mia coscienza stride con certe cose tu non mi puoi venire a dire che questi erano una banda di matti esaltati che avevano una concezione medievale oscurantista della platonica della dicotomia tra l'anima che il corpo è tutto male quindi deve essere trattato male invece va bene soltanto l'anima quindi soltanto lo spirito ma queste sono tutte quante sciocchezze frasi fatte perché non è che è uno che ha fatto tutti facevano questo tutti quanti tutti ora mi chiedo tutti stupidi tutti folli tutti medievali la fortuna che sono tutti quanti santi canonizzati tutti chi è che si sbaglia e poi vangelo la mano qual è la via più stretta quella della mortificazione della penitenza o quella di ah no 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 ha già sofferto abbastanza Gesù con la flagellazione che gli hanno dato a Gesù che l'hanno massacrato basta no basta gli hanno messo i chiodi dentro la mela nei piedi ma basta ancora non basta ci devi mettere pure la penitenza superbo tu sei un superbo perché ci vuoi aggiungere guardate che l'ho sentito dire queste cose qui è gente che me l'hai venuta a riferire povera gente che gli è venuta la malaugurata idea di dire a qualche ministro che ci aveva voglia di fare qualche penitenza ah tu tu sei superbo sei superba perché non basta quello che Gesù ha pagato per te che ti vuoi mettere a farlo pure tu bella 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 arroganza che c'hai pensi che ti salvi da solo tutti questi discorsi proprio che a me fanno venire un nervoso senza diventare nervoso perché poi non si può diventare nervoso e non bisogna arrabbiarsi perché poi si pecca quindi mi fanno venire un nervoso teorico diciamo così no allora qui si dice chiaramente la resurrezione della carne riguarda i corpi dei beati che riceveranno il premio e riguarda i corpi dei dannati che riceveranno il castigo cioè ci si pensa che cosa significa essere tormentati tormentati dolore ma per tutta l'eternità tutte quelle che vanno in giro adesso perdonatemi continuate ad andare in giro nude vai vai continua continua vai continua 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 poi vedrai dopo che sei morta quello che succede ridami pure in faccia di che sono medievale mandami a quel paese continua però vai avanti vai avanti poi un bel giorno piangerai e dirai se a quel a quel deficiente di prete anziché dirgli tutte queste cose qui gli avessi provato un attimo ad ascoltarlo dato che non è un prete che parla ci sono duemila anni di storia della chiesa che parlano se fosse un povero scemo che si alza la mattina basta andare a vedere che cosa faceva che faceva padre Pio con le mode in vere conti o San Leopoldo Mandic uno dei più grandi confessori più buoni confessori che si è mai esistito che si metteva a strillare per tutta la chiesa carne da macello e carne da macello quando vedeva qualcuna in vere contamente vestita continua continua poi quando nell'inferno starai torturata esattamente in quelle parti del corpo che è esposto che chi lo sa che succederà perché qualcosa si sa ma neanche tutto dopo non ci sta più tempo però dopo che fai non è meglio pensarci prima e farla finita una buona volta almeno quelle persone che dicono ad avere la fede che sono battezzate che frequentano e che siano strabenedette tutte quante quelle figliole coraggiose io ne conosco un po' mi danno una grandissima gioia che non soltanto che sfuggono da certe cose ma che fanno anche di più che fanno dei gesti di come dire di attenzione di mortificazione che sono sia di edificazione che di riparazione per tante cose io mi rallegro per loro ma si rallegreranno ancora di più quando incontreranno il nostro Signore e le ricompenserà per quello che stanno facendo 159 che significa vita eterna vita eterna significa che il premio come la pena guardate cioè guardate sempre cioè guardate guardate sempre cioè quando si parla di queste cose il Catechismo è un esempio decimo si guarda bene perché noi sentiamo la vita eterna ah che bello la vita eterna vuol dire vuol dire la beatitudine non è non è così perché vita eterna è sia per i beati ma anche per i dannati cioè l'eternità è la prospettiva che ci attende ma eternità non è sinonimo ipso facto di beatitudine rileggo e riprendo vita eterna significa che il premio come la pena durerà in eterno e che la vista di Dio sarà la vera vita e felicità dell'anima il premio essenziale la beatitudine mentre la privazione di lui sarà la massima felicità e come attenzione una morte eterna quindi tecnicamente la dannazione non si chiama proprio propriamente vita eterna ma si chiama appunto morte eterna però attenzione che bisogna capire capire bene cioè è una vita perché tu continua a vivere e con tutte quante le tue facoltà vivi una vita da uomo cioè i dannati hanno un cuore hanno le braccia hanno le mani hanno i piedi hanno le gambe hanno gli occhi hanno le orecchie hanno il naso hanno la bocca si prova ad andare a leggere per esempio la descrizione dell'inferno che il signore diede a santa Faustina Kowalska l'apostola della divina misericordia io ho un pieghevole che me lo lascio sempre in chiesa o quello che ha visto dell'inferno santa Veronica Giuliani o santa Teresa Davila o i pastorelli di Fatima o altri santi ce ne stanno quanti uno ne vuole io ho dei tomi grossi così dietro probabilmente userò qualcosa per il ciclo di catechesi si potrebbero andare dietro dei tomi grossi così che ci sono le storie che narrano santi e beati canonizzati sul purgatorio lo descrivono nei minimi dettagli tutti quanti i gradi gli stati la suddivisione del purgatorio è chiaro che quelle non sono il dogma di fede è il purgatorio le rivelazioni private come sempre che cosa fanno alla verità di fede aggiungono dei dettagli che tu puoi anche non crederci ma se li conosci certamente te lo rendono più chiaro non è la stessa cosa rappresentarsi in quel modo il purgatorio e quindi è un regalo enorme una cosa del genere perché tu se lo acquisisci e ne prendi atto lo eviterai perché farai uno stile di vita differente torniamo per il discorso di prima vabbè applichiamolo a me sapete quando c'è ma d'estate vai in giro con questa ma non te muori di caldo è certo che non muori io per l'altro il caldo non lo sopporto in casa ho l'aria condizionata non mi vergogna a dirlo perché non dormirei la notte però dopo ogni tanto uno gli risponde se senti un po' di caldo meno di quanto ne fa l'inferno meno offriamo un po' se questa è una cosa che ha detto al signore se fa l'inverno è di stare e se si deve soffrire un po' e se soffre un po' mi farò speriamo un po' del purgatorio in meno che io me lo fa tanto cioè se uno non ci pensa mai è chiaro che non farà niente perché uno dovrebbe fare il digiuno semplicemente perché lo dice la Madonna a Meggiugorie per carità se riesce a fare soltanto per quello bravo ma il digiuno c'è tanti buoni motivi per farlo perché se tu fai un digiuno il digiuno è un'opera penitenziale tu hai spirito ai peccati sicuramente anche col digiuno una veglia di preghiera impegnativa quanto purgatorio ti risparmiare noi non possiamo saperli questi questi numeri ma è chiaro che chi fa una veglia di preghiera impegnativa tra una persona che fa una veglia di preghiera impegnativa e uno che non lo fa ma ci vuole la scienza infusa per capire che sicuramente è tempo impiegato diversamente la preghiera è un'opera penitenziale quando la prolunghi nel tempo fino a farla diventare molto molto impegnativa è una penitenza non indifferente e non te verrà un po' a scontro da un po' di purgatorio non me va ad andare a fare e va bene se non te va non c'è andare però il pensiero di ma se se la faccio un po' di purgatorio in meno andrà a messa un po' più spesso cioè spero che sia chiaro che chi va a messa tutti i giorni sicuramente sarà un po' di purgatorio in meno sicuro o no cioè queste cose bisogna saperle bisogna sapere che dopo la vita terrena c'è un destino e te lo scrivi adesso il destino se tu stai sentendo queste cose e non le sapevi adesso lascia perdere chi le dice dimenticatevi completamente l'esistenza di Don Donardo tanto se non esistesse sarebbe pure meglio non fa niente perché Donardo sta come dire sta riferendo uno scritto di chi è molto più grande di lui ma la conoscenza di queste cose è una grazia enorme immensa certo se tu l'hai avuta io lo dico sempre alle persone perché il nostro signore queste grazie per quanto sta le farebbe a tutti solo che la stragrande maggioranza della gente c'ha altro a cui pensare non glielo può portare di meno io vedo stasera connessi sono tanti per i miei numeri 106 persone in diretta ci stanno 106 persone che anziché sta a vedere la televisione o fare gli altri affari suoi stanno a sentire un prete che parla di queste cose chi vedrà un video se se lo vede dall'inizio alla fine queste le catechesi a tema sono impegnative cioè un'ora di video è impegnativo non è un'omelia feriare da 5 minuti che dici facciamo la pillola spirituale del giorno da 5 minuti e questa è un'ora dei catechesi non è che si parla di argomenti non sto raccontando le barzellette d'accordo o fare intrattenimento si parla di cose abbastanza serie impegnative vogliamo chiamarle pesanti potrebbero anche essere qualificate pesanti sotto certi punti di vista mi dispiace d'accordo ma queste so quindi però di per sé è una grazia enorme nella casa del patrimonio ci sono molte dimore più in alto andiamo in paradiso e meglio è meglio staremo ma quanto in alto vai tu te lo scrivi qui questo ce lo abbiamo metto in testa non date retta non pensate che le cose sono tutte quante uguali che comunque tu sia visore a tutto quanto uguale non gli date retta quello dico per il vostro bene oh 160 che significa la parola amen la parola amen significa in verità così è guardate aman in ebraico in verità quando Gesù dice nel Vangelo in verità in verità vi dico se uno prende il testo greco amen amen lego yumin amen che è la traslitterazione dell'ebraico la traslitterazione che viene reso in verità in verità cioè in verità perché aman in ebraico dice sta attento ecco tutti quanti gli amen che pronunciamo durante la Santa Messa pensate all'amen che si dice al termine della preghiera eucaristica anche nella Messa antica sapete nella Messa antica c'erano pochissimi interventi dell'Assemblea pochissimi molta venia molta parte del rito venia svolto in silenzio ma attenzione arrivati al termine della consagrazione il sacerdote dice per ipsum com ipsum in ipsum in segreto alla fine di tutto questo però per omnia secula seculorum ad alta voce perché tutti dovevano dire amen cioè tutto quello che è successo qui adesso la rinnovazione del sacrificio della croce con gli effetti che vengono applicati siamo stati sul Golgotha veramente ah no questo è più è più amen è più sicuro questo di qualunque altra verità sensibile scientifica è più sicuro questo che non che 2 più 2 fa 4 questo significa amen ho detto tante volte che la fede è così il problema Galileo adesso ho detto che la gente qualcuno un giorno o l'altro interverrà e mi dice basta non ripete sempre le stesse cose il problema Galileo non è quello che raccontano il famoso mainstream d'accordo il problema di fondo di Galilei quello su cui la chiesa si è impuntata e ha fatto bene era questo e ve lo pongo a voi cioè era in questi termini allora tu che pensi che è più sicuro che 2 più 2 fa 4 o che la vita eterna significa il premio la morte eterna vediamo un po' perché Galileo dice questo qua nessuno mette in discussione le verità di fede lui era un gran credente era un gran credente non era un un ateo però le verità di fede si trovano sul piano subordinato inferiore perché non sono evidenti le verità di fede sono tutte inevidenti nessuno le può dimostrare ma se io una cosa te la posso dimostrare è chiaro che questa si trova in un grado superiore sembra vero no? sembrerebbe vero ma non lo è perché è vero che la verità di fede non la puoi dimostrare ma qual è l'autorità di una verità di fede? è Dio Dio non sbaglia non può sbagliare Dio non inganna e non può ingannare se Gesù Cristo nel Vangelo ha detto ci sarà il giudizio universale verranno radunati tutti ci saranno le pecore e i capri a uno gli dirò venite benedetti agli altri gli dirò andate via ma redetti nel fuoco eterno il discorso è completamente chiuso ma io non l'ho mica visto ma io non ci sono mai stato la gente dice dopo la morte c'è qualcosa io non l'ho mai vista ci sono mai stato Dio esiste dille come si presenti io non l'ho mai visto i discorsi degli sciocchi Amen Aman in ebraico vuol dire questa cosa è sacrosanta è strasicura la mia vita appoggia come fondamento unico e incontrovertibile su queste verità di fede che vengono prima e davanti tutte le altre cose non me ne importa niente e io non voglio ripetere anche qua sempre le stesse cose però invito tutti quanti a pensare e a riflettere perché pensare e riflettere è operazione doverosa perché il Signore dell'intelligenza ce la data perché la facciamo funzionare non perché ce la mettiamo sotto i pieni voi vi immaginate ma vogliamo rivedere che è successo negli ultimi due anni e mezzo ma io continuo a ripetere ma una persona che è graniticamente fondata sulla fede ma pensiamo che avrebbe reagito in certe cose che si sarebbe fatto mettere il panico e la crisi io penso di no c'è libertà di pensiero può essere che mi sbaglio ma io penso di no anche perché vedo come ho reagito io che sono un grandissimo peccatore per carità ma un pochino di fede spero di avercela spero a me non mi fa né caldo né freddo la situazione che si è creata zero zero capito che significa zero la mia vita nel mio interno non è cambiato minimamente nessuna paura nessuna psicosi zero ok l'ho detto c'è chi ha sentito le mie testimonie io sono diventato prete amici l'ho raccontato c'è stato in giro su youtube l'esperienza della io ho visto ho visto con gli occhi ho toccato San Giovanni dice le cose che noi abbiamo udito che abbiamo ascoltato che hanno toccato con mano io mi sono visto morire da santo un amico davanti agli occhi miei uno che prima che stesse in quelle condizioni non sembrava un santo era un bravo ragazzo ogni volta che dico un giorno d'altro Francesco mi manda qualche accidenti dall'altra parte non lo fa chiaramente però prima di quella cosa io non lo conoscevo così io attraverso di lui che ho visto ho visto proprio visto con gli occhi sperimentato che la fede è qualcosa con la quale cambia tutto e senza la quale è tutto diverso è la fede che ti fa affrontare e vincere la morte senza nessuna paura è la fede che fa dire a un ragazzo che non ha manco 23 anni dice pensavo che Gesù mi guarisse ma a me Gesù non non mi guarisce ma non ti preoccupare io sono pronto facciamo la volontà di Dio ricorda che c'è un altro figlio io l'ho sentito con le orecchie mie queste cose o quando andava che stava a San Giovanni con tutti quanti gli altri malati come lui tutti morti prima di lui tutti quanti morti prima è rimasto solo lui cioè ma che ci vuole la scienza infusa per capire che prossimo sei tu è lui tranquillo non solo qualcuno di quelli stava tutto quanto arrabbiato nero e se la prendia col padre eterno perché faceva il solito discorso che fanno tutti ma tra tante proprio a me e che peccati ho fatto e io ho la vita davanti e sono giovane e ora devo morire io non le sapevo queste cose mi raccontò la madre lui andava a parlarci con questi uno per uno li ha fatti morire tutti quanti in grazia del Dio riconciliati ci sono confessati ci sono fatti la comunione non hanno preso olio santo e lui non è che andava lì cioè c'è un prete il prete che deve fare te consola e ti cerca di mettere in grazia no lui andava lì come soggetto coinvolto cioè se vedeva morì quello davanti dice guarda che domani moro io è per questo che ho un po' di fe io soltanto per questo ho diventato un prete io c'avevo una vita c'avevo la fidanzata c'avevo la laurea c'avevo già un lavoro io dico fermi tutti però fermi tutti fermi qui non si tratta di andare a fare il don abbondio della situazione che sta lì in parrocchia la cosa è il funerale è il breviario è a fare il mestierante perché ti danno quattro sordi perché c'è niente da fare qui si tratta di spendere la vita perché qualcuno con la fede si arriva alla vita eterna si arriva con la fede si vince da morte con la fede si affronta la vita eterna in un altro modo quando c'è non quando c'è che vi ha messa per far favore al padre eterno che scaldi il banco che stai con l'orologio che la pratica è troppo lunga e che la messa è troppo lunga e che quello non serve quasi a niente non serve meglio niente anzi certe volte perché è più facile che si converta un ateo convinto piuttosto che un praticante non credente o media di domenica scorsa tanto per fare qualche rimando i praticanti non credenti sono terribili so peggio dei credenti non praticanti quindi la parola amen significa in verità così è tradotto anche con così sia ma è meglio così è per così sia sembrerebbe dice così sia no no così è è certo e con essa confermiamo essere vero tutto quello che confessiamo nel credo e ci auguriamo la remissione dei peccati la risurrezione alla gloria e la vita eterna in Dio le tre cose che dobbiamo veramente sperare dobbiamo chiedere sempre al Signore che i nostri peccati siano tutti rimessi c'era il Vangelo di oggi beati gli afflitti chiedete 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 c'è un dono che si può chiedere ve lo dico un dono un dono mistico può forse un po' se non si possono chiedere i doni mistici nessuno tranne uno il dono delle lacrime chiedetelo Signore che io possa ma piangere come un bambino ma piangere con amore di carità ogni mio più piccolo peccato fosse anche minimo come faceva Santa Gemma Calgani che sta alle mie spalle per chi vede il video eccola lì che si confessava una volta alla settimana e piangeva come una bambina racconta il confessore e confessava quasi tutte imperfezioni e quasi tutti involontari quindi piangere i peccati nostri piangere sulle sofferenze di nostro Signore ed era Madonna ma piangere come un bambino come diceva il mio monico San Leonardo da Porto Maurizio e quando predicava la Via Crucis se vedeva che la gente non piangeva dice che fai non piangi ancora ancora non piangi piangere anche su tante cose che vediamo in giro tante cose storte che vediamo in giro e dinanzi a cui non possiamo farci niente noi possiamo piangere davanti a Dio ci stanno i profeti che dicono i sacerdoti piangono tra il vestibolo e l'altare possiamo piangere possiamo piangere possiamo pentirci anche per gli altri possiamo esprimere al Signore il nostro dolore pensate che non sia gradito una cosa del genere e che Dio non intervenga vedendo le lacrime di chi soffre dinanzi a situazioni che non può cambiare sono più grandi di lui può farci qualcosa ma certamente non cambiarle altre lacrime sante le lacrime sante non sono quelle dei piagnoni ci stanno anche le lacrime sante belle le lacrime di amore le lacrime di come dire c'è chi piange perché per il desiderio di riunione con Dio per il desiderio di andare in paradiso chiedetele quindi ci auguriamo la remissione dei peccati ho detto nell'omelia di questa sera San Francesco che è il santo della gioia è diventato cieco a forza di piangere e non era un piagnone perché beati gli afflitti non significa beati depressi o beati piagnoni perché i figli di Dio non sono piagnoni i figli di Dio però piangono eppure tanto per motivazioni sante e quelle lacrime sono sempre lacrime belle ma è possibile che piangere sia bello se dice beati gli afflitti Gesù piangere è bellissimo se si piange da figli di Dio non da piagnoni ci auguriamo la remissione dei peccati la risurrezione alla gloria qui abbiamo poco da stare e qui stiamo in stato di semi interdizione totale come vedremo nel ciclo di catechesi per chi lo seguirà di tenere amata qui stiamo in interdizione stiamo sotto il dominio del peccato tutti anche i santi che cercano di combatterlo e che cercano di vincerlo ma comunque stiamo in un regime imposto dalla volontà di Dio giustamente come rimedio per il peccato per cui stiamo proprio interdetti ci dobbiamo privare quasi di tutto e di altre cose siamo invitati a privarcene volontariamente per amore di Dio per spirito di penitenza e per andare alti in gloria quindi la risurrezione alla gloria e la vita eterna in Dio io spero che tutti quelli sapete che tutti quelli che in qualche modo come dice Gesù se qualcuno dovesse essere aiutato a me sembrano sempre molto strane queste cose però a quanto pare a volte succede se qualcuno dovesse essere aiutato da qualcosa che io dico ad accostarsi al Signore e invece rivediamo in paradiso io sarò contentissimo mi metterò sotto terra dirò ringrazio al Signore perché guarda questo non dipende da me però certamente che sarò contentissimo ma sarò contentissimo soprattutto per per la persona e perché il motivo per cui io al suo tempo guardate che la mia vocazione stava travagliata è prima durante e dopo mezzo miracolo che diventa prete ok però io dissi al Signore se altre persone devono avere questa fede e io ti posso servire a questo ma io non ci penso manco un minuto faccia finito il fidanzamento finito il lavoro finito tutto io vi parto perché questa è una cosa che è troppo importante troppo ecco quindi ci auguriamo la remissione dei peccati la resurrezione della gloria e la vita eterna in Dio e se mi posso permettere di fare una glossa al Catechismo di San Pio X guardate che presuntuoso che sono ci auguriamo di vivere la fede degna di questo nome la fede che sposta le montagne di cui parla il Signore la fede che ti fa vivere un'altra vita anche se è sempre la stessa da un punto di vista di cose che accadono ma la fede in un altro modo e infatti questa sezione chiudiamo anche questa puntata termina così così la prossima volta cominciamo i comandamenti che ci divertiamo un po' dao Signore ai tuoi credenti la costanza e la sincerità della fede in te e le conclude con una preghiera al che i fermi nel divino amore non siano mai divelti per nessuna tentazione dalla integrità in essa la fede integra la fede che abbraccia tutte le verità di fede anche quelle che non ci piacciono quante volte ho detto alla gente dico senti un po' io non mi diverto per niente a parlare dell'infermo né mi diverto come ho fatto oggi a dirti stati attento che se non te dai una calmata soffrirai delle pene espiatorie ma io non mi diverto ma che c'è se io potessi non dirle queste cose ma non le direi anche perché sono cose che nella maggioranza delle persone oggi non suscitano ammirazione buoni sentimenti suscitano critiche insulti reazioni ma se questa è la verità la fede va annunciata in maniera integra non si può annunciare soltanto quello che è bello che esiste il paradiso che il signore è buono che ci perdona i peccati è accorto che nella vita ci sono tante cose belle non si può non si può limitare soltanto a questo nessuna tentazione non siano mai divelti per nessuno divelti bellissima questa immagine è proprio dalla integrità in essa e te ne supplichiamo eccetera eccetera per Cristo nostro Signore questa è tra l'altro c'è una nota che è una una delle preghiere del post comunio evidentemente del messale antico la numero 34 fra le orazioni diverse del messale ci congediamo io non lo sapevo che c'era questa preghiera conclusiva dato che ho fatto una piccola apologia della fede non prevista dao Signore ai tuoi credenti la costanza e la sincerità della fede in te al che fermi nel divino amore non siano mai divelti per nessuna tentazione dall'integrità in essa come siete la fede integra evidentemente vive e porta sempre all'amore anzitutto di Dio perché solo chi ama Dio veramente ama il prossimo bene amici è anche troppo ci vediamo se Dio vuole la prossima puntata quest'anno faremo due puntate al mese di Catechismo di San Pio X perché mercoledì lo dico così anche rimane nel video registrato il primo e il terzo li dedichiamo a San Pio X il secondo e il quarto alla Sacra Scrittura quindi alle Catechesi sull'Antico Testamento che ci porteranno avanti ancora molto tempo Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga amici e amiche carissime ci vediamo se Dio guarda la prossima puntata Ave Maria di San Pio X Grazie a tutti.